Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale! Oggi faremo un giochino a trampolino! Allora facciamo rincorsa, battuta sul trampolino, salto avanti, vince chi prende per tre volte prima... Vince chi prende prima il cubetto per tre volte! Allora facciamo rincorsa, battuta sul trampolino, salto avanti, vince chi prende per tre volte, vince chi prende per tre volte, vince chi prende per tre volte, vince chi prende per tre volte! Allora facciamo rincorsa, battuta sul trampolino, salto avanti, vince chi prende per tre volte, vince chi prende per tre volte, vince chi prende per tre volte, vince chi prende per tre volte! Due Nellie! Due Nellie! Due Chiara! Tre Nellie! Se lo prende anche la Chiara siete pari! Vincenelli! Vincenelli!